Grazie a tutti Roberto, è sempre bello ritornare qui e parlare un po' delle grandi opportunità che abbiamo ma anche degli aspetti critici perché è vero che abbiamo delle grandi opportunità ma dobbiamo essere pronti per cogliere queste opportunità. Intanto che cos'è il mezzogiorno? Sarebbe il sesto paese per popolazione dell'Unione Europea, grande come dimensione come la Romania, più grande dei Paesi Bassi, il 22% del PIL italiano, quasi il 3% di quello dell'Unione Europea. Però negli ultimi anni il mezzogiorno è cresciuto poco, meno della media nazionale. In un arco temporale di circa 30 anni, del 1995 al 2022, ha accumulato un ritardo nella crescita di circa 15 punti percentuali rispetto al centro-nord e come è stato detto questo ritardo si è accumulato a partire dalle crisi finanziarie. Il PIL reale del mezzogiorno è cresciuto tra il 1995 al 2002 ed un tasso di crescita anno dello 0,2%, inferiore rispetto a quello medio nazionale dello 0,61% a quello del centro-nord che era lo 0,73%. Voglio spiegarvi che cosa vuol dire e perché oggi fare ripartire il Paese vuol dire veramente fare ripartire il mezzogiorno. Immaginiamo che il mezzogiorno fosse cresciuto come il resto dell'Unione Europea. Oggi il rapporto debito-PIL dell'Italia in questo scenario sarebbe più basso di quello della Francia. Oppure immaginiamo che il mezzogiorno fosse cresciuto come il resto dell'Italia negli ultimi 25 anni. Oggi il rapporto debito-PIL sarebbe di 20 punti percentuali più basso rispetto a quello che è oggi. Quindi capite che lo sviluppo e la crescita del mezzogiorno, come è stato detto prima, è un tema anche di sostenibilità della finanza pubblica. C'è anche questo aspetto che è molto importante. Io oggi, insomma, se guardo a questa importantissima area d'Italia, vedo quattro principali gap rispetto al resto del Paese e al resto dell'Europa. Il primo riguardo il sistema produttivo. C'è una minore densità di imprese in relazione alla popolazione residente, 64 imprese ogni 1.000 residenti, contro il 76 per 1.000 nazionale, l'83 per 1.000 del centro-nord. E una minore dimensione aziendale media, 2,9 addetti per impresa contro il 4,4 del centro-nord. E una più bassa quota di imprese industriali di medie dimensioni, 9,7 contro il 75 per cento delle regioni del centro-nord. C'è una limitata, e questo è stato detto prima, propensione all'innovazione e all'export. La ricerca e sviluppo sul PIL del mezzogiorno è circa dell'1 per cento, contro l'1,6 per cento del centro-nord. E poi un'elevata dipendenza del credito bancario. Quindi, vedete, abbiamo un sistema di imprese più fragile. Però è anche vero, ma poi ci torno dopo, perché ci sono delle filiere industriali molto interessanti. Ci sono dei cluster ad elevata ricerca, ad elevata potenzialità di sviluppo. Però bisogna costruire intorno a questi cluster industriali, costruire un sistema. Quindi la prima debolezza riguarda il sistema produttivo. Il secondo, non mi dilungo molto, è esattamente quello che diceva il Governatore Visco, la minore dotazione di capitale umano. Tasso di occupazione inferiori alla media nazionale, 46,7 per cento contro i 66,5 del centro-nord. Alta disoccupazione giovanile, 21,1 dei giovani disoccupati a fronte del 6,4 del nord. Bassa occupazione femminile, 34,3 rispetto al 59,3 del centro-nord. E poi, quella che secondo me è veramente, e anche questo è stato citato, una delle cose che vanno contrastate. L'emigrazione. 1,2 milioni di giovani emigrati negli ultimi 20 anni. 160 mila laureati negli ultimi 10. Si capisce che si sta veramente impoverendo il tessuto umano. Poi parliamo della dispersione scolastica. 15,1 per cento contro il 9,4 per cento del centro-nord e l'11 per cento nazionale. Quindi abbiamo detto sistema produttivo, capitale umano. Terza fragilità, carenze infrastrutturali nei servizi pubblici locali. Anche qui alcuni dati. Rete autostradale, 1,87 chilometri per cento metri e cento chilometri quadrati rispetto al 3,3 del nord e il 2,3 al centro. Linee ferroviarie ad alta velocità. 0,15 chilometri per cento chilometri quadrati rispetto allo 0,8 al nord e 0,56 al centro. Le perdite idriche sono molto elevate, ma c'è un altro dato che mi piace purtroppo sottolineare. Dei 24 interporti in Italia solo 5 sono nel mezzogiorno e la percentuale dei porti collegati alla rete ferroviaria è pari al 5,6 per cento nel mezzogiorno rispetto al 34,7 per cento al nord. Perché voglio citare queste carenze infrastrutturali? Perché è chiaro che in un sistema che tocca ora poi di centralità del mezzogiorno nell'area del Mediterraneo, se il mezzogiorno non è ben collegato con tutto il resto del Paese e con tutto il resto dell'Europa rischiamo di perdere una grande opportunità. Non vi spaventate, duriamo tre giorni, scusate questa sessione. Siccome stiamo misurando il divario e noi stiamo per raccontare la speranza che ci sarà, poi abbiamo Ferraris, abbiamo Salini e la rincorsa che questo Paese deve fare, però è importante sapere da dove partiamo. Prego, continui. Scusate, ci spaventano perché noi siamo qua per dire che guideremo, che il Sud non appartiene più diciamo, appartiene ovviamente all'Italia ma appartiene all'Europa che deve parlare al nuovo mondo. Uno parte dalla situazione e poi vediamo cosa bisogna fare, insomma. E ultimo gap di cui volevo parlare, quindi ho detto sistema produttivo, capitale umano, servizi pubblici e infrastrutture, capacità della spesa della pubblica amministrazione, purtroppo l'86% dei comuni che hanno dichiarato dissesto tra il 2018 e il 2022 sono localizzati nel mezzogiorno e poi c'è una fragilità, questa è una caratteristica dell'Italia ma è più spiccata nel mezzogiorno che riguarda l'efficacia delle azioni della pubblica amministrazione, ovviamente il Sud, lo sapete, è un po' a macchia di leopardo. Il tempo tra il 2012 e il 2020 media, i tempi di completamento delle infrastrutture sono stati più lunghi di quasi 700 giorni nel Sud rispetto al resto del Paese, vuol dire il 25% in più. Ora abbiamo visto che queste sono delle carenze strutturali che vanno affrontate in maniera molto determinate proprio nel contesto storico attuale in cui invece il Sud è destinatario di risorse senza precedenti, circa 200 miliardi fino al 2027, 90 dal PNRR, fondo complementare, 60 dal fondo di sviluppo e coesione, 50 dai fondi strutturali e accanto a questa disponibilità di risorse, come vi dicevo, c'è una rinnovata centralità del Mediterraneo. Il Mediterraneo da mare di transito sta diventando veramente un mare di scambio. Il mezzogiorno, come sapete, come è stato detto anche dal governatore Visco, a seguito delle crisi, le catene del valore globale si sono riorganizzate, c'è un dato molto interessante sui traffici. Ecco, poter intercettare questo cambiamento epocale di riconfigurazione delle catene del valore significa dover colmare rapidamente questi gap. Ecco, le catene globali del valore oggi sono meno lunghe rispetto al passato, con rapporti di scambio più selettivi, sentiamo tutti parole nuove come French Shoring, Near Shoring, vuol dire che sostanzialmente si riorganizzano nello stesso blocco regionale, accentuando la centralità, ripeto, del Mediterraneo e intensificando i trasporti e le rotte a corto raggio. Guardate, vi do un elemento che è veramente indicativo, secondo me. Nel 2023 le rotte regionali sono aumentate di quasi il 6% rispetto al 2022, mentre le rotte, parlo di rotte marittime, a lungo raggio sono tra est e ovest e si sono ridotte del 3%. Quindi, questo significa che c'è un'opportunità perché si intensificano gli scambi e la posizione dell'Italia è tale per cui se si dota di queste infrastrutture, se si collega bene può diventare veramente una grande opportunità. Quindi il Mezzogiorno è un candidato naturale al ruolo di hub logistico per i flussi commerciali tra Nord Africa e l'Europa continentale. È già leader a livello europeo per le rotte a corto raggio con una quota di mercato del 14% del totale davanti a Spagna e Francia. Poi ricordiamoci sempre che il Mezzogiorno è anche un importantissimo hub energetico e soprattutto tra Europa e Sponda Sud del Mediterraneo. Le regioni meridionali ospitano 3 dei 5 punti di ingresso sul continente europeo del gas proveniente dall'Asia centrale, il TAP che arriva in Puglia, dal Nord Africa tramite il Green Stream e Transmed, poi ci sono due elettrodotti già operativi, Grecia e Montenegro, un terzo, conoscete l'ELMED che è in costruzione con la Tunisia. Inoltre il Mezzogiorno produce un terzo dell'energia rinnovabile del Paese con un primato nell'eolico il 97%, 40% del fotovoltaico sono quote destinate a crescere visto che l'85% delle richieste di connessione alla rete di nuovi impianti rinnovabili è localizzato proprio nelle regioni meridionali. quindi non possiamo sottovalutare questo ruolo importante, questo ruolo veramente di piattaforma e l'importanza che le relazioni con i Paesi extra-UE affacciati sul Mediterraneo avranno negli anni a venire anche alla luce dei diversi fattori competitivi che caratterizzano oltre la vicinanza geografica come un costo di lavoro contenuto una dotazione di infrastrutture logistico portuali in rafforzamento. Sulla demografia è già stato detto tutto insomma ricordo che oggi la popolazione africana è in fortissima crescita grazie a una combinazione di mortalità in cano e alti tassi di natalità sono 1,4 miliardi di persone con età media di 19 anni entro il 2050 saranno 2 miliardi e mezzo il 25% della popolazione globale diventeranno il 40% della popolazione globale entro la fine del secolo. Quindi avete visto il mezzogiorno ha queste carenze queste sfide infrastrutturali ma ha delle grandissime opportunità legate alla possibilità di appunto di cogliere e di saper cogliere questi cambiamenti del mondo e dei traffici legati appunto al continente africano. Ora il continente africano rimane un'opportunità lo sappiamo però è premesso che poi quando si parla di Africa è difficile diciamo l'Africa anche qui non è una sono tante l'Africa subsahariana occidentale è diversa da quella orientale anche quella del nord è diversa se si guardi ad est e ad ovest sono economie fragili molte con un rating molto basso ma sono grandi opportunità in cui bisogna intervenire e sapete che Cassa Depositi e Prestiti oltre ad operare in Italia è anche la DFI Development Finance Institution italiana ovvero vuol dire la banca che serve a fare diciamo la cooperazione internazionale quindi la diplomazia economica dell'Italia noi abbiamo lavorato molto sul mezzogiorno ma proprio per questa per quest'ottica per aiutare a preparare il mezzogiorno a questa grande opportunità che si concretizzerà abbiamo finanziato oltre 13.600 imprese per oltre 4 miliardi e poi c'è una quantità di cose nuove che stanno emergendo abbiamo finanziato 5 poli di trasferimento tecnologico al sud 4 programmi di accelerazione in settori come la Blue Economy la Bioeconomia Cybertech Artificial Intelligence come vi dicevo bisogna costruire da questi germogli che ci sono e sono spesso legati ai cluster se stiamo guardiamo a Napoli l'automotive l'aerospazio l'aerospazio e diciamo anche qui il trasporto ferroviario è presente anche in Puglia stiamo facendo un acceleratore sulla cybersicurezza in Calabria a Cosenza stiamo vedendo veramente in Sicilia ci sono molte molte cose che vanno aiutate e vanno alimentate ma questo non basta cassa depositi e prestiti non può solo dare la finanza perché vi ricordate che una delle quattro fragilità che abbiamo visto è l'azione della pubblica amministrazione quindi noi stiamo offrendo servizi di consulenza per rafforzare la capacità di spesa di messa a terra degli investimenti al Sud vi do dei numeri solamente i nostri servizi di advisory per la parte del PNRR per quanto riguarda il Sud supportiamo amministrazioni centrali titolari di investimenti PNRR e soggetti attuatori proprio per accelerarne la programmazione e l'attuazione stiamo lavorando con 10 amministrazioni su 40 progetti per circa 3,1 miliardi di euro poi siamo advisory partner su InvestEU quindi abbiamo attinto dei fondi comunitari per fornire servizi di advisory e nel mezzogiorno anche qui aiutiamo 10 amministrazioni su 22 progetti infrastrutturali per circa 1,4 miliardo e poi gestiamo dei mandati per il pubblico che cubano quasi un miliardo di euro nel mezzogiorno a supporto di oltre 2.000 enti vedete fornire supporto all'amministrazione pubblica che si è fortemente impoverita dopo le crisi diventa molto importante per migliorare la qualità dell'azione e mettere a terra in maniera più efficace questa quantità enorme di risorse che ora abbiamo a disposizione e che devono essere utilizzate in modo intelligente in modo rapido e per questo stiamo cercando di affiancare la pubblica amministrazione ora abbiamo fatto un accordo ed è la prima volta che Cassa Depositi e Presidi fa una cosa di questo tipo il primo accordo è stato fatto con l'Emilia Romagna per aiutarli a mettere a terra i fondi del FEASR abbiamo fatto i due di accordi con l'Emilia Romagna ma stiamo parlando anche con altre regioni due importanti del mezzogiorno anche qui per mettere dei nostri team accanto a quelli delle regioni per aiutare a spendere bene le risorse come vi dicevo Cassa è anche l'istituzione finanziaria per lo sviluppo e qui è chiaro ed è evidente che l'Italia vuole giocare un nuovo ruolo più centrale noi abbiamo una buona dotazione di risorse adesso in particolare il Fondo Clima che è uno strumento nuovo destinato a fare investimenti e finanziamenti nel campo appunto della transizione energetica nella riduzione diciamo degli impatti del cambiamento climatico ci siamo dotati di una struttura doc abbiamo assunto molte persone abbiamo iniziato ad essere presenti sul territorio abbiamo aperto i primi uffici territoriali di cassa all'estero perché francamente io mi sono occupato molto di questo quando era in Bay la cooperazione per lo sviluppo non si può fare da Roma o non si può fare da Napoli bisogna essere in loco quindi abbiamo aperto uffici regionali a Rabat al Cairo pensiamo di aprirli nell'Africa subsahariana probabilmente a Bijan o Dakar e poi Nairobi dove è molto importante essere perché bisogna veramente seguire la progettazione parlare con i promotori di questi progetti che hanno fasi diciamo di preparazione molto lunga ad un elevato tasso di mortalità quindi cassa è un attore che si sta fermando certo siamo più piccoli perché siamo partiti più tardi rispetto agli altri bilaterali che operano nell'area attive da oltre 50 anni penso all'AFD 41 anni di KFW pro parco dal 77 insomma siamo partiti da poco ma stiamo creando una squadra con tutti questi operatori proprio per cercare di lavorare insieme per accelerare la crescita dello sviluppo dell'Africa che come vi dicevo prima se faremo le cose che ci faremo essere essere pronti a cogliere questa opportunità potrà dare un grande beneficio anche anche al mezzogiorno ripeto in questo stiamo cercando anche di attrarre le risorse dall'Unione Europea che servono poi per finanziare questi progetti che necessitano molto spesso di un'alta concessionalità vale a dire necessitano di fondi per abbattere il costo dei finanziamenti o anche come serve molto spesso per fornire assistenza tecnica per preparare bene i progetti da ultimo proprio per rispondere a quello che diceva Roberto come detto prima la sfida di far crescere un'area mediterranea non è una sfida che si può vincere da soli abbiamo rapporti molto stretti con le nostre omologhe del Mediterraneo con la cassa depositi e prestiti del Marocco c'è una cassa depositi e prestiti anche della Tunisia vi devo dire anche che stiamo lavorando perché questo concetto di banche promozionali e di sviluppo è un concetto molto interessante che piace a molti sta funzionando e sta funzionando soprattutto dopo le crisi in cui si è dimostrato che molto spesso gli operatori di mercato non erano in grado di fare tutto di assumersi i rischi di fare finanziamenti a lungo termine quindi stiamo cooperando in maniera molto stretta con degli incontri anche con con i francesi più avanti lo faremo con i greci con gli altri soggetti che si affacciano sul Mediterraneo ma anche aiutando a rafforzare le istituzioni finanziarie della Sponda Sud del Mediterraneo perché ripeto anche questo sarà necessario ecco una combinazione uno sforzo congiunto potrà aiutare a realizzare quelle infrastrutture nella Sponda Sud che saranno molto importanti ma ripeto è importantissimo ed è fondamentale che il Sud si faccia trovare pronto a cogliere questa opportunità grazie grazie quindi io devo ringraziare tantissimo Dario Scanapeo quella speranza di cui parlavo e c'era nel suo intervento Dario Scanapeo Dario Scanapeo